appassionati di tecnologia seguite la pagina audi elite ecco qui una novità assoluta un 10 pollici hd dedicato audi è da tempo che la clientela lo aspettava bene siamo pronti siamo i primi andiamo a togliere il monitor originale audi dove tutti si lamentano è incredibile ieri ho visto la nuova reclame audi sesso monitor e devo ringraziare grazie audi continuate così ci pensiamo noi un 10 pollici dedicato con recupero funzioni totali auto il prezzo 8 e 99 comprese installazione rimanete collegati entro un paio d'ore video diretta lavoro finito